Oltre alle ragioni umane, umanitarie e cristiane, ci sono ragioni politiche, quindi abbiamo da una parte Salvini che ha fatto una campagna elettorale con una indicazione di scelte che poi come Ministro ha applicato, per questo è inaccettabile che solo con interferenza politica la magistratura lo abbia indagato, perché si tratta di un'azione politica discutibile ma che non puoi contrastare con una finta azione penale, di fatto politica chiamandola penale. Stessa cosa vale per l'altro, l'altro ha un'idea opposta, però ha realizzato una specie di utopia che in parte funziona, ospitando delle persone in nome di un'idea politica, anche in quel caso è un'interferenza andare a discutere, al di là di una serie di imperfezioni o irregolarità. Perché? Perché se durante il fascismo un cristiano, facci, tu, io, avesse accolto in caso un ebreo, l'avrebbe fatto contro la legge, ma non vorrebbe dire sul piano etico, l'ho detto alla Camera, che il suo comportamento andrebbe giudicato come un comportamento penalmente rilevante o discutibile da parte di una legge sbagliata che lo attacca per una scelta moralmente giusta. Cioè a dire, dobbiamo immaginare che se oggi noi parliamo di antisemitismo, i più deboli, i disperati, quelli che non hanno lavoro, che non hanno casa, che vengono accolti da un sindaco, vengono accolti in nome di valori etici, che diventano poi di fatto un'azione politica e nessun magistrato ti può arrestare per questo. Questo ho detto. Quindi mettendo sullo stesso piano Salvini e Lucano, ma la magistratura non può interferire sulle posizioni che hanno assunto due persone in maniera limpida, chiara e coerente. Nella fattispecie del secondo, addirittura proteggendo persone deboli e mettendola a lavorare. Per cui voglio dire che se tu hai accolto in caso un ebreo durante il fascismo, ti devono perseguitare, ti devono arrestare e ti devono condannare. No, perché la moralità di un comportamento umano supera qualunque legge sbagliata. Allora, vediamo intanto una prima intercettazione che ha gli atti della procura e che riguarda esattamente quello che diceva, cioè il modo che è stato considerato dai magistrati sbagliato di salvare in questo caso una migrante. Vediamo come l'ha fatta e poi voglio sentire facci che cosa ne pensa. Questo è come un animale. L'ha capito? Tanto dice, io a 60 è del 48. Lei è dell'88. Ha 30 anni. Lei è dell'88 e lui del 48. Gli passa 40 anni. Guarda Maria, lui è lucido. Lui dice, questa qua vuole i documenti? Li deve pagare. Non li deve pagare con i soldi. Li deve pagare... In natura. In natura, giusto. Lei è lucida. Non ho scelta. Così come sto per strada e mi pagano, ovviamente, a amarezza. È la storia di una ragazza, una prostituta, che sposandosi dopo tre dinieghi della cittadinanza e dell'asilo in Italia per sposarsi con un altro signore e questo tipo di organizzazione veniva fatto dal sindaco, parlava con i suoi funzionari e questo viene considerato dai magistrati illegale. Facci. Allora, il primo principio di cui mi avvalgo è che io sono sempre d'accordo con Sgarbi, anche quando non sono d'accordo con Sgarbi. E questo va bene per una discussione seria? In questo caso, perché io con lui per principio non voglio oppormi, lui però questa volta ha avuto una visione, a mio avviso, estetizzante della questione, altre volte perché è bravissimo anche in quello, si è letto i procedimenti, le carte, forse stavolta non l'ha fatto, altrimenti non avrebbe fatto un ragionamento che avrebbe valore se noi fossimo ancora e oggi nel fascismo. Comunque, celermente, mi sforzo di pensare, perché me ne frego di Wim Wenders e di tutto il seguito di questo cittadino, che sia un cittadino normale. Bene, la magistratura nei suoi confronti ha avuto, e fatico a dirlo, un comportamento esemplare. Praticamente, anche chi conosce le carte e lo difende, dice che in sostanza ha compiuto una disobbedienza civile perché questa persona, il GIP, il giudice l'ha acclarato, ha compiuto dei reati, ci sono già le fonti di prova anche se non siamo ancora a processo. Infatti, cosa dicono? Che ha fatto disobbedienza civile, lo dice Saviano stesso. Il dettaglio è che la disobbedienza civile, quella che ha fatto Gandhi, l'ha fatto arrestare Gandhi, Dolci durante il fascismo fece arrestare Dolci, i radicali lo facevano provocatoriamente per finire in galera e sollevare un problema. Non è il caso di Mimmo, che poi si chiama Domenico Lucano, il quale, come spiega il giudice, ha compiuto un po' alla calabrese, vantandosene un po', ma non vantandosene troppo, una serie di reati che un cittadino della Repubblica italiana non può compiere e tantomeno il primo difensore delle regole civiche e civili che è il sindaco. Tra l'altro Salvini non c'entra un accidente perché questa inchiesta di due anni fa c'era un altro governo ed è stato sollevato il problema da una prefettura calabrese e poi dalla procura di Locri. Quindi abbiamo un classico caso di garantismo all'incontrario. Siccome a noi ci piace questo e amico nostro non lo si deve inquisire, non lo si deve toccare, però io invito i giornalisti e i giornali, ho quasi finito a scrivere per bene le cose che dice questo giudice, le ragioni per cui non l'ha arrestato per due anni e alla fine gli ha dato dei domiciliari da cui rilascia interviste come l'altro ieri sulla sette di 25 minuti filati e ininterrotti in cui non fa che difendersi. I soldi del sistema Riace, secondo questa tabella che vi faccio vedere, perché sono contenute nell'ordinanza, è che l'Associazione Città Futura, l'Associazione Centro Italiano Protezione Civile, l'Associazione Oltre Lampedusa, Girasole Cooperativa Sociale, l'Associazione Los Migrantes, l'Associazione Riace Accoglie, l'Associazione Welcome ha avuto in due anni 10 milioni 227 mila euro, cioè una quantità, e poi ce ne sono tantissimi altri fonti di... Però lui non ha intascato nulla. L'avrei detto dopo tre secondi, mi hai bruciato Klaus, lui non ha intascato nulla, però questi 10 milioni sono stati talvolta assegnati a delle cooperative... Con affidamenti diretti. Che vuol dire, parliamo chiari, che vuol dire un affidamento diretto a Klaus D'Avon? Che non c'è stata una gara, non c'è stato un bando... Quindi a chi l'ha affidate? Che ha violato il codice. A gente di cui si fidava, probabilmente, professionali. Eh, va benissimo. Io me voglio chiedere se i sindaci di Roma possono affidare, i sindaci di Milano possono affidare, i sindaci di Cerveteri, poi ne parleremo, possono affidare in questa maniera.